Pino ci chiese di preparare tutti quanti qualcosa da portare era una notte bianca a Roma, la notte bianca a Roma è importantissima e io mi sono rifugiato in quello che sono fondamentalmente perché decisi di portare una pizzica entra in scena, parti il brano e venne giù il teatro lì capì veramente chi ero e che cosa dovevo fare e dove dovevo andare e quindi ho deciso di tornare giù di tornare giù perché secondo me era e adesso ne ho la conferma la scelta migliore mi ha dato il via alla nascita di tante cose belle della mia vita ha drizzato proprio la vita in realtà da mio figlio a poi a quest'idea che avevamo di creare un gruppo di musica popolare con Giuseppe perché anche Giuseppe viveva a Roma, stava lì con me grazie 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 grazie